Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Zert Airsoft Oggi siamo nell'angolo high tech Nell'angolo high tech con una recensione di una bellissima GTX 750 Ti Quindi una Nvidia di Force GTX 750 Ti Targata MSI come possiamo vedere dalla scatola Questa è la versione OC Edition Quindi overclockabile Facciamo una panoramica della scatola Questo è il retro Allora possiamo vedere che dentro ci sarà il programma MSI Afterburn come driver Possiamo anche controllarla tramite Android o iOS Questa è una cosa che sono proprio curioso Qua in alto possiamo vedere che ha Military Class 4 come materiali Quindi buonissimi Pronta anche per il 3DMark che è un benchmark Windows 8, Norton, PCI Express Vabbè vediamo Poi qua possiamo vedere sotto che ha 2GB di memoria GDDR5 dedicati E attacchi ce li ha HDMI, DVI e DSUB Che non so cosa sia Allora Andiamo un pochettino di lato Qua vediamo soltanto la scritta Nvidia GeForce E la scritta MSI Ci ricorda che ha il PCI Express 3.0 Che possiamo vedere anche da qua dal davanti E anche che supporta le DirectX 11 Da questo lato invece possiamo vedere Niente di interessante Di qua Un'altra immagine così E di sotto la stessa cosa Però ora la parte più importante E andare ad aprire Perfetto Apriamo Apriamo la scatola E ci troviamo davanti Manuale In descrizione Graphic Card MSI Graphic Card Che c'è praticamente in tutti i conti Le schede video MSI Cartone inutile E qua la scheda video Che andiamo a vedere Un attimino dopo E sotto Troviamo i CD di installazione Dei driver Perfetto Allora Mettiamo a posto questi Non ci interessano Mettiamo un attimo da parte Ed ecco qua la scheda video La scheda video che andiamo subito Ad aprire Con la sua carta Antistatica Perfetto Ecco qua la nostra Bellissima MSI GTX 750 Ti Allora Questa è una scheda video Tanto per incominciare Che ha delle prestazioni Ottime Perché Potete giocare A praticamente Tutti i giochi In commercio Non dico a prestazioni Altissime Elevatissime Ma Veramente Ha un'ottima qualità Ma soprattutto Perché ha un prezzo Veramente ridotto Questa scheda video Costa circa 150 euro Più o meno Anche di meno Si trova Così La si trova Sui 120 euro Più o meno Quindi Per quello che offre Fidatevi che è un'ottima scheda video Con questa Riuscirete a giocare A Battlefield Hardline Praticamente Quasi tutta ultra Forse dovrete Levare soltanto qualche filtro Ma il resto Tutto quanto a ultra Cioè Prestazioni al top Ragazzi Soprattutto per quello che costa Qua possiamo vedere Le porte Display port Ah scusate La Si No Vabbè Bugia Qua vediamo L'HDMI E questa è la DVI Scusatemi Sbagliai E poi qua possiamo vedere Il PCI Express Tutto coperto anche questo Da Gommino Eccolo qua Nuovo nuovo di pacca Ancora da utilizzare E Niente Allora Questa scheda video Io la consiglio A chi Deve farsi un computer Di fascia Medio bassa Perché Riuscirà ad avere Un costo contenuto Ed è Diciamo La maggiore richiesta E soprattutto Avrà delle prestazioni Veramente ottime Che può giocare a tutto Sì ovviamente Non Prestazioni elevatissime Ma Siamo lì Cioè Ragazzi Potete tenere Tutto quanto Tranquillamente A medio Senza nessun problema Ovviamente In full HD Questa qua È una scheda video Veramente Consiglio A chi Sta per farsi Un PC Nuovo Ed è alle prime Armi O che non vuole Spendere molto È La soluzione Migliore Esistono anche Altre versioni Anche stesse Dell'MSI Esiste una versione Che si chiama Gaming Tanto perché Ha due ventole A posto di una Ed è un pochettino Più grande Ah e un'altra cosa Che mi sono dimenticato Di dire Che questa scheda video Come potete vedere Anche da qua dietro Non ha L'alimentazione Quindi non ha Bisogno di essere Alimentata Quindi questa scheda video Non avrà bisogno Di pin per l'alimentazione Perché Perché viene alimentata Direttamente dal PCI Express Quindi non avrete bisogno Di spendere Neanche Di comprare Un alimentatore Di grandi Di grandi Consumi Di grandi Vattaggio Perché Non ce n'è bisogno Questa scheda video Non consuma Praticamente nulla Viene alimentata Direttamente Dalla scheda Madre Ed è una cosa Ottima Perché Per un PC Di Fascia Diciamo Medio Bassa Per rimanere Anche nei costi Contenuti È una soluzione Ottima Così Riuscirete a Spendere Il meno possibile Sia su scheda video Che risparmierete Anche sull'alimentatore Quindi Veramente Il top Del top Guardare Questa scheda video Si può paragonare Più o meno A una GTX 960 Che è quella Che ho io In possesso Il mio computer Ed è Fidatevi Che le prestazioni Stanno lì E io con la 960 Gioco tutta ultra Quasi Quindi Come Scheda video È Di ottima qualità Ottime Prestazioni E ottimo Rapporto Qualità Prezzo Quindi Io direi Ne vale Veramente La pena Comprarla Soprattutto Se Dovete Farvi Un computer Nuovo Già L'ho detto Comunque Niente Ragazzi Io ve la consiglio Veramente Tanto Questa scheda video La faccio vedere Anche un po' Meglio C'è una panoramica Veramente Veramente Ottima Ragazzi Niente ragazzi Con Con questo è tutto Io vi invito Come sempre A lasciare un like Se il video vi è piaciuto A iscrivervi al canale Soprattutto a commentare Per Per qualsiasi cosa Qualsiasi richiesta Qualsiasi domanda Commentate Io vi saluto Ciao E al prossimo video